Scuola professionale provinciale per l'industria e l'artigianato Luigi Enaudi di Bolzano, uno dei luoghi più adatti per presentare il progetto Antoine, accompagnare e formare al lavoro. Nei laboratori e nelle officine prenderà vita l'iniziativa rivolta sia ai giovani inoccupati, i cosiddetti NIT, sia a quanti hanno un titolo di studio troppo generico e poche competenze tecniche, ma anche a lavoratori qualificati che necessitino di un aggiornamento, gli ex operai della Solan Silicon sono un esempio. Lavoro e formazione, offrire opportunità ai nostri giovani, ai nostri ragazzi attraverso la formazione professionale, questo è il progetto Antoine che si propone di seguire ogni studente, ogni studentessa per il successo formativo e nel lavoro. L'iniziativa prende il nome dal protagonista del capolavoro di Truffaut, i 400 colpi, e prevede percorsi di formazione ritagliati sulle caratteristiche personali di chi vi aderisce. Si tratta di persone che o non hanno degli sbocchi lavorativi o comunque hanno raggiunto delle qualifiche, dei diplomi che possono essere poco spendibili o sono diventati poco spendibili o hanno perso il lavoro e quindi sicuramente da un punto di vista motivazionale sono da recuperare, da stimolare. Hanno bisogno di ricreare un bagaglio di competenze che possono essere poi spendibili, si spera, in un altro tipo di mansione. Numerosi sono i casi di persone in possesso di titolo di studio o qualifica professionale che incontrano difficoltà a trovare un impiego coerente con il percorso formativo, ma in altri casi ci sono anche giovani che hanno bisogno di migliorare il loro profilo acquisendo nuove competenze. Si rivolge a disoccupati, inoccupati, persone con occupazioni anche precarie che ha bisogno di essere accompagnati in un percorso di formazione, riqualificazione anche attraverso tirocini, anche attraverso strutture e modalità di sostegno in modo che possano trovare la loro strada perché poi in definitiva ogni persona ha dei talenti, ha delle predisposizioni, si tratta di rilanciarle spesso perché le delusioni che spesso si ottengono nei primi rapporti di lavoro precari tendono a diminuire la forza, anche l'autoconsapevolezza dell'individuo. Quindi questa è un po' la finalità del progetto Antoine, accompagnare la persona in un progetto di rilancio. In sostanza anche persone che hanno abbandonato gli studi o la formazione professionale possono, grazie ai servizi offerti da Antoine, riorientare il proprio percorso. In questo caso personale del servizio orientamento individuerà ambiti di competenza e interessi che possono, con interventi formativi adeguati e rafforzati dal tirocino e sostegno motivazionale, rilanciare la persona e avvicinarla ad uno sbocco professionale coerente con le sue caratteristiche. Le risorse a disposizione e la collaborazione con le parti sociali nell'incontro ai preparatori sono stati coinvolti sindacati e associazioni imprenditoriali, permetteranno di raggiungere inizialmente circa 200 persone.